Namaste, benvenuti. Oggi faremo una meditazione sulla libertà interiore. Trovate una posizione comoda, seduti a gambe incrociate oppure seduti su una sedia. Se siete su una sedia potete appoggiare le piante dei piedi a terra, allungare bene la colonna e portare le mani alle cosce. In ogni posizione, in ogni caso, le spalle sono aperte, la gabbia toracica, la pancia, sono liberi di espandersi nell'espiro. La posizione dovrebbe essere il più possibile comoda per poterla mantenere per un po' di tempo. Siete pronti? Bene, iniziamo. Cominciamo a fare qualche respiro profondo e ampio e chiudiamo gli occhi. Occhi chiusi, verifichiamo la nostra posizione. Adagiamo il bacino, le gambe, appoggiamo bene la parte inferiore del corpo e leviamo la colonna verso l'alto, aprendo le spalle, aprendo il cuore. Ad ogni respiro la posizione diventa sempre più comoda e confortevole. Inspiro, allungo la colonna e espiro, rilasso la schiena. E mentre respirate, sentite le varie parti del corpo. Le braccia sono morbide e sciolte, spalle. Le spalle si rilassano sempre di più. La schiena si rilassa. Il respiro arriva fino alla pancia. Tutto il busto si espande nell'ispiro e si rilassa nell'espiro. Il peso del corpo stabilmente appoggiato alla terra o alla sedia. La gola è morbida, la mandibola si abbandona. Possiamo distendere il viso. Dalla fronte, alle palpebre, alle guance. Il nostro viso sempre più disteso e rilassato. la testa diventa leggera e libera. Tutto il corpo morbido, presente, sensibile. Il respiro diventa naturale. Per qualche istante osserva il tuo respiro. Percepisci l'aria che entra, l'aria che esce. immagina di essere l'osservatore di ciò che accade nel tuo corpo. Il corpo pulsa, pulsa di vita. Il sangue circola, il cuore circola, il cuore batte. L'aria entra, l'aria esce. Affidati all'intelligenza profonda del corpo. Fatti da parte. Da parte, presente. A testimoniare ciò che accade. Ora prendi coscienza di questo meraviglioso veicolo fisico che ti ospita. Delle sue funzioni a livello fisico, ma non solo. Immagina, senti, emozioni, pensieri che abitano il corpo. senti come la tua macchina biologica è stata creata con funzioni meravigliose, perfette che ti tengono in vita. Ti danno tutti gli input necessari alla tua sopravvivenza. Ogni emozione arriva per il tuo benessere, perché tu possa agire o reagire in conformità alla legge di sopravvivenza. ora chiediti. Chi ha la padronanza sul tuo sistema biologico, emotivo, mentale? cosa lo condiziona? meccanismi nati o condizionamenti sociali? quanto di te è determinato dalla natura? e quanto dall'ambiente in cui sei cresciuto, in cui vivi? quanta padronanza hai di questo veicolo fisico? puoi avere più potere, più autodeterminazione. forse ti è stato fatto credere il contrario? ritorna re o regina nel tuo regno interiore senti che stai abitando il tuo corpo, il tuo essere la tua coscienza la tua coscienza che osserva i meravigliosi meccanismi del corpo può essere presente totalmente in esso nel qui ed ora la tua coscienza la tua coscienza è luce la tua coscienza è potere la tua coscienza è forza fai scendere luce, potere e forza all'interno del tuo corpo adesso ad ogni respiro la luce entra e si diffonde nelle cellule nelle cellule, negli organi senti il calore aumentare nel tuo corpo le gambe, le braccia la pancia, il torace, tutto il busto la luce nella gola la luce all'interno della testa la pelle luminosa la luce ti circonda riempie tutto il tuo spazio vitale sei libero sei libero sei libera lo sei sempre stato lascia che la luce lascia che la luce allontani le ombre le pareti della gabbia crollano nulla dall'esterno nulla dall'esterno può penetrare a meno che tu non dia il permesso sei libero sei libero sei libera in qualunque in qualunque situazione in qualunque luogo non dia il tempo si in ogni momento in cui senti i limiti la mancanza di libertà, la gabbia, i condizionamenti, farsi di nuovo stretti intorno a te puoi ritrovare di nuovo questa luce, questo senso di espansione questa libertà che ti appartiene per diritto di nascita ogni giorno, ogni momento, sii presente, attiva, espandi questo senso di libertà attraverso la luce, attraverso la padronanza di tutto il tuo sistema, corpo, mente, emozioni, spirito ogni definizione è inutile, è un'altra gabbia lasciati libero di sentire l'aria entra, l'aria esce sedimenta queste sensazioni nel tuo corpo fisico nelle cellule sentilo in tutte le parti del corpo la testa, il viso, il busto, le braccia, le mani le gambe e i piedi e radica di nuovo questa sensazione di libertà, questa luce alla terra senti sotto di te la terra che ti sostiene, ti nutre, ti accoglie ritorna piano piano a sentire la densità del corpo fisico radicato alla terra porta questi sentimenti nella vita di tutti i giorni la luce si fa di nuovo materia le ispirazioni interiori le ispirazioni interiori si fanno azioni concrete ricorda il lavoro spirituale è fatto di discernimento e di concretezza il discernimento ti porta lucidità indipendenza di pensiero la padronanza del tuo sistema psicofisico ti porta all'azione corretta l'aria entra, l'aria esce dolcemente ti prepari a terminare questa meditazione un respiro più profondo con forza, con determinazione di nuovo inspira ed espira il corpo diventa forte e pesante sempre più radicato la mente ritorna piano piano lucida in uno stato di coscienza ordinario quando sei pronto, quando sei pronta puoi riaprire gli occhi lentamente prendi coscienza di nuovo del luogo in cui sei delle sensazioni sei ancora bisogno di qualche respiro per tornare lucido, presente fai tutto ciò che serve per tornare qui, in questo momento con tutte le tue risorse disponibili Namaste, grazie grazie a tutti